Un nuovo rapporto sulle violenze e torture perpetrate in Siria arriva alla vigilia della conferenza di pace di Ginevra 2 a sconfortare gli animi dei profughi, come quelli di Atma, a 60 km dal colfine turco, dove 30.000 persone vivono in condizioni estreme. Non abbiamo speranze nella conferenza di Ginevra 2. Qui nei campi le persone non contano sull'esito della conferenza. Abbiamo fede solo in Dio. Non ne possiamo più. Siamo stanchi. La morte sarebbe più facile che vivere così. Preghiamo di morire e mettere fini a fame e povertà. Non abbiamo vestiti. I miei bambini sono stati una settimana senza acqua e cibo e nessuno se ne interessa. Una commissione d'inchiesta inglese su richiesta del governo del Qatar ha pubblicato un rapporto contenente documenti forniti da un ex poliziotto siriano. 55 immagini digitali scioccanti di corpi tumefatti sarebbero la prova che il regime siriano avrebbe torturato i detenuti. Sarebbero 11.000 i morti dall'inizio della rivolta nel marzo del 2001 fino all'agosto dello scorso anno. Questa madre siriana ha perso il figlio di appena 15 anni. Abbiamo trovato il suo corpo, era stato torturato e ucciso, racconta la donna, mostrando l'ultimo video sul suo cellulare. Agenzie umanitari hanno pubblicato una lettera aperta affinché i membri della conferenza di Ginevra si concentrino sui bambini. Agenzie umanitari hanno pubblicato una lettera aperta affinché i membri della conferenza di Ginevra si concentrino sui bambini.